C'è voluto più di mezzo secolo perché la comunità di Piano Marina a Marotta avesse la sua chiesa. Domenica sera, alla prima celebrazione della Messa, nella prima Chiesa delle Marche dedicata al Santo da Pietralcina, Padre Pio, c'erano più di 500 persone. Ad ufficiare il rito, il Vescovo di Senigallia, Franco Manenti, assieme a Don Egidio Bugnoli, che guida la parrocchia di San Giuseppe, che fa parte della Diocesi. Una sala liturgica di oltre 500 metri quadrati, dove troveranno posto per le funzioni i fedeli, più altri ambienti dedicati alle attività di catechesi e riunioni e convegni, progettati dall'architetto Marco Marchetti. A questo momento così sentito da tutta la comunità, si è arrivati dopo un lungo percorso, durato sette lunghi anni, che ha visto nel 2012 la donazione alla Diocesi del Terreno da parte dei fratelli Fenici, seguito poi dalla variante della destinazione d'uso nel 2013, fino alla posa della prima pietra avvenuta nel 2016, per poi arrivare finalmente alla prima funzione domenica scorsa, 7 aprile 2019. Il costo dell'intera operazione è stato finanziato al 75% dalla CEI, con i fondi dell'8x1000, al resto hanno pensato i contributi dei fedeli, con offerte medio-piccole, anche di 5 euro, financo ad arrivare al pensionato devoto che ha donato buona parte dei suoi risparmi, contribuendo così a donare un momento importante ed emozionante per la comunità, che ha teso questo istante fin dal 1964, come ha sottolineato un orgoglioso primo cittadino Nicola Barbieri nella cerimonia inaugurale. Questo luogo rappresenta non solo un punto di culto, ma anche di coesione e di aggregazione sociale.